Certo, poi rispetto all'invito che è stato presentato ai consiglieri per pagare, se questo è una forma di una difile messa in mola, questa è una riserva di consente che devo verificare perché è una cosa che il responsabile del procedimento... Il dottor Quitarelli? No, il responsabile del procedimento l'ha detto il dottor Fioramanti. Certo, il dottor Quitarelli ha detto che l'ha messa in mola, perché c'è la dottor Fioramanti? L'ha visto il dottor Quitarelli, allora lo difilò è messo in mola come forme di legge, ma non è quello che determina l'inserimento in minaccia, determinato dalla sentenza... Non posso vedere che togliamo i gatti e facciamo questo, ma questo è la sua pittura, poi ci ha avuto il dottor Quitarelli, poi ci ha avuto il dottor Quitarelli, poi ci ha avuto il dottor il dottor Quitarelli, poi ci ha avuto i gatti e non si lascia prendere. Ma il dottor Quitarelli non può venire con le gatti e portare la legge. Ma non è? Grazie. Grazie. Grazie.